Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Gianni Jean. Buongiorno, cara sorella e caro fratello l'ascolto. Le giornate, come hai visto, si sono ormai si stanno sensibilmente accorciando e l'autunno sta per prevalere sull'estate calda che abbiamo vissuto. Io ti saluto nel nome del Signore Gesù che ha detto io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà mai nelle tenebre, anzi avrà la luce che dà vita. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore tu hai formato la luce quando hai creato la terra con la tua parola e con il tuo spirito. Sei tu la nostra luce anche nelle ore del buio. Sei tu la nostra luce anche quando si spegne la luce terrena. Vogliamo questa mattina aprirci alla tua luce e provare a comprenderne il mistero. Il mistero di una luce che brilla e continua a brillare nelle tenebre. Vogliamo godere di questa luce con maggiore riconoscenza. Vieni tu dunque ad illuminare il nostro spirito che rimarrebbe altrimenti nella penombra. Amen. guada di questa mattina. A Certificio è un particulamento di conflitto di conflitto di conflitto di conflitto Il cuore Matteo mio Signore, la vita è mia sala, aiuto e forza a migliora, in un lato di no. Il testo che ho scelto per oggi, avevo detto di provare a scegliere tre testi dal cuore del Vangelo di Marco, ebbene oggi siamo proprio nel centro, nel cuore di questo Evangelo, al capitolo 8, i versetti da 27 a 38, un testo molto conosciuto. Gesù poi se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo, e strada facendo domandò ai suoi discepoli, e chiede anche a te oggi e a me, Chi dice la gente che io sia? Esse risposero alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri ancora uno dei profeti. Egli domandò loro, e voi? Voi chi dite che io sia? E Pietro gli rispose, tu sei il Cristo, ed egli ordino loro di non parlare di Lui a nessuno. Poi, poi Gesù cominciò a insegnare loro che era necessario, che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, e fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo tre giorni risuscitasse. Gesù diceva queste cose apertamente. Pietro così lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro, dicendo, vattene via da me, Satana. Tu non hai senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E chiamata a sé la folla, con i suoi discepoli, disse loro, se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo, la salverà. E che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole, in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. Tu, è una citazione, iniziamo con una citazione, cara sorella e caro fratello. Tu, si rivolgeva a Gesù, uomo triste e commovente, vedi dove ci hai portato. Credo che tu difficilmente riesca a riconoscere, a identificare chi ha pronunziato queste parole. Sono le parole che vengono messe in bocca a Giuda, il discepolo di Gesù, forse il più entusiasta dei discepoli di Gesù, nel grande musical che ormai ha 50 anni, Jesus Christ, superstar. E Giuda che non riesce a farsi una ragione del fatto che Gesù li abbia traditi. Li abbia traditi nel senso che loro si aspettavano un grandissimo condottiero, un grandissimo leader, un messia potente e trionfante. Mentre hanno incontrato, hanno conosciuto un uomo povero, debole, impotente, sconfitto, in qualche modo. Giuda amava più di tutti gli altri Gesù, ma non può accettare un Signore che parli di croce. Chi dite voi che io sia? Chiede Gesù a più riprese nel Vangelo di Marco a quelli che lo seguivano e chiede anche a noi oggi, a te, chi dite voi che io sia? Chi dici tu che sia? Il Nazareno, il Signore Gesù. Questa domanda sull'identità di Gesù è al cuore, come ti ho detto, proprio del Vangelo. È al centro del Nuovo Testamento. È la domanda che deve, che è e che deve rimanere al centro della nostra riflessione e della nostra ricerca di fede. Noi troppo spesso, vedi, questa è la mia impressione, magari mi sbaglio, Noi troppo spesso ci, anche noi valdesi, ci interroghiamo sulla nostra identità, quale sarà mai la nostra identità oggi, chi sono i valdesi, eccetera, eccetera. Per carità è del tutto legittimo, ma la domanda che sta al cuore dell'Evangelo è un'altra. Chi è Gesù? E questa è la domanda con la quale devi fare i conti, e che dovremmo affrontare insieme in questi giorni in cui stanno riprendendo le attività delle nostre chiese e delle chiese un po' ovunque dopo la pausa estiva. Chi dite voi che io sia? E questa domanda, la mia impressione è questa, questa domanda dopo duemila anni di cristianesimo non ha ancora ricevuto una risposta esauriente, una risposta soddisfacente. E perché non ha ricevuto una risposta soddisfacente? Perché è Gesù la domanda. Vedi, anni fa, ma credo che circoli ancora anche oggi, vi erano delle tende dove si predicava in modo magnifico, per carità, si predicava l'Evangelo e queste tende si chiamavano Cristo e la risposta. Allora la prima cosa che io vorrei dire oggi è che a mio avviso Cristo è la domanda e non la risposta, non è un gioco di parole. Ecco, Gesù è la domanda, è anzitutto una domanda, e la tua ricerca di fede che corrisponderà con i sentieri della tua vita sarà un tentativo faticoso, appassionante, ma mai concluso di rispondere a questa domanda. Chi dite voi che io sia? E avremo delle risposte diverse, certamente abbiamo delle risposte diverse, ma sono tutte risposte estremamente parziali. Non ho il tempo qui di riassumerti una delle pagine più belle in assoluto della letteratura mondiale di tutti i tempi, la leggenda del grande inquisitore, ma valla a leggere nel cuore del libro I fratelli Karamazov di Fyodor Dostoyevsky, Gesù ritorna nella Spagna del Cinquecento, segnata da grandiosi autodaffè, da repressioni feroci, eccetera, eccetera, è una chiesa trionfale quella che incontra Gesù, ritorna anonimamente sul sagrato di questa immensa cattedrale e incontra una bambina che è appena morta, che è stata portata lì per il suo funerale, e Gesù la restituisce, la restituisce la vita e la restituisce a sua madre. E il vecchio cardinale, il grande inquisitore, lo fa subito arrestare. E poi c'è un dialogo meraviglioso, straordinario, fra il vecchio inquisitore e Gesù, perché l'inquisitore gli dice che cosa sei venuto a fare. Qui era tutto ben organizzato, adesso tu vieni a sconvolgere ogni cosa, sarò costretto a liquidare anche te, perché la nostra chiesa, il cristianesimo, come l'abbiamo concepito e costruito, funziona bene. Non puoi essere tu a venire a rovinare ogni cosa. Ora, sappiamo che alla fine di questo dialogo, rileggilo, Gesù senza pronunziare parole, darà un leggero bacio sulle labbra esangui dell'inquisitore, quasi a dirgli il senso di un amore, anche per le persone che maggiormente hanno tradito il messaggio evangelico. Già, perché Gesù è sempre un elemento di disturbo nella nostra vita. E perché questo? Questo, quando è che succede? Che cosa era successo nel cristianesimo di quel tempo, del Cinquecento che Dostoevsky dipinge? Era successo questo. Era stata messa da parte la dimensione della croce. E questo accade molto spesso. È accaduto molto spesso in duemila anni di cristianesimo, ed accade anche oggi. Già durante l'agnosi si era detto, ma insomma, la croce di Cristo è stata un incidente. Già i docetisti, quelli che mettevano l'accento solo sulla gloria di Cristo risorto, e dicevano, ma no, la croce è una cosa che dobbiamo mettere da parte. Insomma, non è accettabile che il Messia, che il nostro Signore, sia uno che davvero ha sofferto, al quale hanno sputato tutti quanti, che è stato frustato e crocifisso come un maledetto da Dio. la Chiesa trionfante di Costantino ha messo da parte la croce. La Chiesa, il cristianesimo che ha conquistato le Americhe, per esempio. Adesso, il 12 ottobre, di nuovo si ricorderà da qualche parte la scoperta delle Americhe. 70 milioni di persone indigene, autoctone, che sono state liquidate per far posto, per far spazio alla civiltà cristiana, diciamo così. Ecco, quando la croce viene messa da parte, il cristianesimo viene tradito. Io, nel corso dei decenni, non solo degli anni, sono ritornato sovente ad un brevissimo testamento spirituale che è stato lasciato al figlioletto da una giovane donna che è stata uccisa, annegata, una donna anabattista. Dobbiamo ricordarci di queste cose. Si chiamava Anne Kenyans. E in questo testamento spirituale dice perciò bambino mio, non lascia detto al suo bambino, perciò bambino mio, non badare alla grande quantità della gente, non incamminarti sulla loro via. Non è il numero delle persone che rende autentico il messaggio evangelico. Ma quando odi che vi è un piccolo gruppo, povero, semplice, vilipeso, che viene disprezzato e rigettato dal mondo, unisciti a quello. E dove senti che c'è croce, là è Cristo. Dove senti che c'è croce, là è Cristo. E io credo che anche nel nostro tempo si stiano moltiplicando, si moltiplicano un po' ovunque nel mondo le proposte di un cristianesimo che vuole semplicemente farti stare bene. C'è addirittura la teologia della prosperità, lo sai, negli Stati Uniti, prende piede. Una teologia che ti dice che se se scegli di diventare discepolo di Cristo tutto andrà bene nella tua vita, diventerai ricco. Anzi, la ricchezza sarà il segno della benedizione di Dio. E non dovrai preoccuparti degli altri. Gli altri lasciali a se stessi perché sono delle persone che evidentemente non hanno una fede sufficiente in Dio. Ecco, vedi, questi possono essere i tradimenti. Nel nostro tempo, anche in Italia, molto spesso sentiamo annunziare un Evangelo senza croce dove ti viene detto ma no, ma basta guardare dentro di te e sono dei discorsi che mi fanno male ultimamente. Basta che tu dentro di te lasci affiorare ciò che sei davvero e troverai la risposta a tutte le tue domande, troverai la risposta a tutte le tue difficoltà, troverai un pieno equilibrio, un'armonia meravigliosa, insomma. Tutto, insomma, è dentro di te. Per quanto mi riguarda, invece, io non trovo nulla dentro di me, ma ho bisogno di questa parola esterna che mi dica chi sono, chi è Gesù oggi per te e che mi inviti al prendere insieme a Lui, ad incamminarmi insieme a Lui sulla via della croce. Tu mi dirai adesso qual è il cammino della croce? Nel nostro tempo può essere tante cose diverse, certamente. Il cammino della croce per molti e per molte è stata la lotta alla dittatura, non soltanto alla dittatura nazionalsocialista o fascista, cioè ad un impegno per la libertà. Quello significa incamminarsi sulla via della croce, perché quanti sono quelli che hanno pagato con la vita. Per altri è stato un impegno gratuito nei confronti degli ultimi, dei più poveri. Per altri ancora è stata una lotta senza quartiere alla discriminazione razziale o per i diritti di tutti e di tutte, non soltanto per i miei diritti, ma per i diritti di tutti. Prendere il cammino, il sentiero della croce con Cristo significa tante cose, il rifiuto del potere, del successo, della ricchezza, la rinunzia anche ad avere sempre ragione. Noi viviamo in un tempo in cui nessuno o quasi nessuno riconosce mai di aver avuto torto. Tu fai attenzione anche nei dibattiti che ascoltiamo in televisione, c'era sempre, se qualcosa non funziona, c'è sempre la responsabilità di chi mi ha preceduto, di chi ci ha preceduto. Era colpa sua se le cose vanno male oggi. Non c'è mai il riconoscimento di una responsabilità. Ecco, Gesù ha in qualche modo rinunziato anche ad autodifendersi davanti a Pilato. Non ha fatto una ringa, assolutamente. Camminare sulla via della croce, infine, e concludo, significa farsi carico della colpa degli altri. Noi viviamo in un mondo in cui la colpa, come ho già detto, tu cerchi di scaricarla sugli altri, di chi ti sta accanto, ovunque così, sul lavoro, nel tempo libero, nelle chiese. Ah, ma è sempre colpa di qualcun altro o di qualcos'altro. Ecco, io credo che il percorso della croce significhi anche riconoscere non soltanto la nostra quota di responsabilità, ma il cercare anche di portare una piccola parte della colpa e della vergogna del nostro tempo e del nostro mondo, della nostra miseria, della nostra sofferenza, della sofferenza di tutti. Ecco, rinunziare al potere, al successo, rinunziare ad avere ragione, a non volere sempre imporre i propri diritti può essere un primo passo. Questo potrebbe essere l'inizio di un cammino anche in questo anno di attività per le nostre chiese, di un cammino che ci porta a ricomprendere che cosa sia la croce, sapendo che solo in quella croce vi è salvezza, vi è futuro, vi è avvenire, vi è riscatto per te, per ognuno di noi e per il nostro mondo. Amen. Amore eterno, mia sovranità, perché mi ha udito dal mio lamento, per il mio sospito e il mio posamento, tutti i miei giorni, io leo al Signore. di un'isprimazione, per il mio sospito Così il Signore mi forza a supplicare. Dari mani la cura del Signore, ma aciuga il campo di la ferpa al piede. Dari mani la cura del campo di la ferpa al piede. E sangerò per il rito per noi. Vogliamo, cara sorella e fratello, caro fratello d'ascolto, avviarci a concludere il nostro culto con la preghiera e poi con la preghiera che il Signore Gesù ci ha insegnato. Signore Dio nostro, noi trascorriamo gran parte della nostra vita a dimostrare agli altri e a volte anche a noi stessi che abbiamo ragione, che la verità sta sempre dalla nostra parte. E tu ci dici invece che dobbiamo assumere su di noi una parte, una parte dei torti, delle cose difficili e dolorose degli altri e del nostro tempo. Non possiamo compiere il cammino che ci hai destinato se pensiamo di essere sempre noi dalla parte della ragione. Ci allontaniamo così dalla verità. Lottiamo per le nostre ragioni, a volte addirittura usiamo come arma la menzogna o ciò che vogliamo ritenere verità. Perché? Perché difendiamo i nostri interessi e non siamo più obiettivi. Continuamente cerchiamo di autogiustificarci. Ecco perché abbiamo bisogno che tu ti chini su di noi e tu venga a farci conoscere la forza del tuo perdono e della tua grazia che può guarire le nostre vite e può guarire anche la nostra fede. Tu sei la verità, Signore. Vogliamo seguire la tua via anche quando si tratta o si tratterà di un cammino in salita. Aiutaci in tutto questo. Benedici le nostre chiese e la Chiesa di Cristo sparsa nel mondo intero e dacci la certezza che questa storia, le vicende della nostra storia e della storia in generale sono guidate da te non verso la deriva ma verso il tuo regno che viene. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci esporra la tentazione ma liberaci dal male Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli Amen Sorella e fratello anche c'è questa parola bellissima anche se le madri dimenticassero dice il Signore io non ti dimenticherò ecco io ho scolpito il tuo nome sulle palme delle mie mani se a volte puoi avere la sensazione che Dio sia lontano ebbene oggi il profeta te lo ricorda il tuo nome è scolpito sul palmo della mano di Dio che la grazia del Signore Gesù Cristo l'amore di Dio il Padre e la comunione dello Spirito Santo siano e rimangano con tutti noi ora e sempre Amen Avete ascoltato il culto evangelico valdese la predicazione di oggi è stata curata dal pastore Gianni Jean grazie a tutti